Buonasera a tutti quanti, sono Massimo Curzio del Big Song Studio e abbiamo organizzato questa serata, questo concerto e qui abbiamo il responsabile di questo bellissimo evento, abbiamo collaborato insieme in una coproduzione. Grazie Massimo, sì. Cattolina Kostienko Baranova ci ha fatto il piacere di fare l'unico concerto che farà in Italia quest'anno qua alla Casa Pompejana al Palazzo Venezia facendo Beethoven, Chopin e Ramanilov. Un pubblico di privilegiati esclusivi, un'operazione unica che si ripeterà spero, è molto convolgente perché siamo nell'era del convolgimento cioè tutti hanno partecipato sia al pubblico ma alla sua maniera come al solito e Cattolina con Volava sulla Stastiera. Veramente, questo è un artista che veramente ci ha comunicato tanto e quindi la musica, come diceva anche Cristrofe, serve proprio oggi giorno che succedono queste cose come ultimamente di violenza, di guerra. La musica dovrebbe essere veramente uno spiraglio per cambiare delle cose, l'arte, mostre, un piccolo spiraglio per poter cambiare dal piccolo il mondo diciamo. Quindi sperare in un mondo migliore. Sono delle piccole luci, delle finestre che l'artista, che il pittore, che il poeta, che lo scrittore proponiamo. Ecco, come pilule di benessere per un mondo migliore, per le future generazioni. Allora è buono, il mio figlio. Ti ringrazio molto e spero di avere un altro concerto di quest'artista bravissima. Ci sarà per la primavera prossima. Ah, quindi l'appuntamento primavera prossima. Maggio, giugno prossimo. Ti saluto dal Big Song Studio e alla prossima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.